Personale della Polizia di Stato della squadra mobile sezione Falchi in via De Caro, strada che collega via Calenda con via Laspro, ha notato un giovane seduto su una panchina a fianco ad un motoveicolo Suzuki che si guardava intorno con fare circospetto. Gli agenti lo hanno fermato, il giovane a 18 anni, incensurato. In seguito al successivo controllo venivano rivenuti all'interno del casco in suo possesso nove pezzetti di hashish avvolti in carta da forno per un peso complessivo di grammi 12,372. Inoltre venivano trovati indosso al giovane tre mazzi di chiavi corrispondenti a due case ed un garage. Venivano effettuate quindi delle perquisizioni nei luoghi indicati con un sequestro di altra sostanza stupefacente di tipo hashish per un peso complessivo di grammi 47, due bilancini elettronici, materiale per il confezionamento delle dosi da spacciare, la somma di circa 5.000 euro, tre foglie monoscritte di portanti e le somme del denaro provento delle cessioni di sostanza stupefacente. Dopo le formalità di diritto il giovane veniva arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sottoposto agli arresti domiciliari.